Bentorni sul canale, in questo video presenterò la lista di Kashtira con la quale sono arrivato secondo all'OTS di Mantova e secondo al regionale di Verona in cui eravamo circa 200-210 partecipanti. È un po' diversa rispetto all'ultima lista che io e Bonny abbiamo portato all'OTS di Alessandria. Tutto sommato comunque il weekend è andato abbastanza bene, ho perso tra sabato e domenica solamente due partite per Brick, il mazzo comunque si è comportato molto bene. Mi piace domenica aver perso l'ultima partita, il Game 3, per un Brick, però comunque tutto sommato il mazzo si è comportato abbastanza bene. E adesso lo analizziamo insieme. L'Engine è sempre quello, 3 Unicorni, 3 Ferri, 3 Rise, Scareclo, 3 Beard, Teosi, Terreno, Terraformare, Prosperity, diciamo che queste sono carte che non hanno bisogno di spiegazione. Certe persone giocano ancora Ogre e Preparazione, per me sono carte che, o Big Bang, sono carte che comunque non servono al mazzo, sono carte aggiuntive che non hanno realmente un valore all'interno del mazzo per me. E quindi tranquillamente si possono cattare per avere comunque due Flexpot in più, che male non fanno. Come Flexpot abbiamo giocato Cosmic, Ash, Shifter, Impermanence, Corvo, come vedete, che sono sostanzialmente le stesse carte che giocavamo all'OTS di Alessandria, solamente che non ci aspettavamo tanti cross-out, quindi abbiamo fatto il cambio di calice con Impermanence. Abbiamo tolto la Mono Bell, poi abbiamo messo Rivari, che non ho quasi mai pescato, però sulla carta è molto forte, sia andando privo che andando secondo, è molto inaspettata, una carta che comunque può essere risolutiva, anche rivelata di Prosperity. Abbiamo continuato a giocare Cosmic perché ci sembrava comunque una carta solida, sia andando primo che andando secondo, molto versatile contro bene o male tutti i matchup, anche contro il matchup con la quale, diciamo, non sembra avere una grande utilità, contro Despia mi riferisco, la carta più fastidiosa è Lost e Cosmic, quindi ti va a counterare Bread and Lost e il resto diciamo che è abbastanza in linea con quello che giocavamo precedentemente. Corvo non ha performato questo weekend per me molto bene, specie perché ogni volta che pescavo Corvo lo avevo insieme a Shifter e quindi non era proprio il massimo, però in certe occasioni se si è comportato veramente bene, è risultato risolutivo. Abbiamo poi Colled e Rivari. Monopair che secondo me sono, come detto prima, Rivari veramente forte e Colled d'utile, sia perché è una carta offensiva, sia perché è una carta difensiva. Molto spesso questo mazzo purtroppo ha monogiocata, quindi monoterreno, monoprosperity, e Colled ti va a counterare Ash in questo caso. Di side abbiamo due droll, Zombie Ward. Abbiamo giocato Zombie Ward perché fondamentalmente il terzo droll lo mettevamo solamente contro Flander. Di conseguenza, per noi, il terzo droll poteva diventare benissimo appunto Zombie Ward perché se devo scegliere tra droll e Zombie Ward contro Flander, scelgo sempre tutta la vita Zombie Ward. Due Reddington Spolverino, Summon Limit, Heavenly Inscription, sulle stesse carte che giocavamo precedentemente. Secondo me sono fortissime e nulla da dire. Di extra pure, l'extra è abbastanza standard, nulla di troppo particolare rispetto, rispetto a prima Babuska, secondo me è molto molto forte, molto sottovalutato perché contro tutti i matchup, se non hanno l'out, è veramente difficile levare Babuska. Contro Voiceless è molto forte, contro Despia, idem. Contro Snekay devono spegcare comunque molte risorse se non hanno direttamente impermanence. Va sopra Curicara. Quindi, diciamo che secondo me è un'ottima carta, un ottimo piano, soprattutto quando parti con tanto engine. Avere un floodgate di extra, secondo me, aiuta. Tutto sommato, il mazzo mi è piaciuto, ha performato abbastanza bene. La lista comunque in continuo aggiornamento. Attualmente mi piace così. Come detto, ad Alessandria abbiamo giocato più una lista improntata sul non prendersi cross-out. Adesso che ci sembrava comunque un meta in cui cross-out non era più troppo popolare come lo era prima, allora abbiamo fatto questo cambio tra calice e impermanence. Però per il resto, la lista comunque, come ho detto, ha performato bene, ha girato bene. Le uniche partite che ho perso sono per Brick, quindi lo accetto. Diciamo che a livello di lista più di questo non si poteva fare. E provatela. Fatemi sapere come vi trovate con la lista, se fareste qualche altro cambiamento. E noi ci vediamo al prossimo video.